Il detective Luca Moretti entrò nell'antico palazzo milanese con cautela. L'ex membro della società segreta, Antonio Rossi, lo aveva invitato per rivelare informazioni cruciali. Luca salì le scale scricchiolanti. Il cuore che batteva forte, arrivato al terzo piano, bussò alla porta dell'appartamento indicato da Rossi. Nessuna risposta. Luca spinse leggermente la porta, che si aprì con un cigolio sinistro. L'appartamento era buio e silenzioso. Luca accese la torcia del suo cellulare e avanzò lentamente. Improvvisamente sentì un rumore alle sue spalle. Si girò di scatto, ma era troppo tardi. Una figura mascherata lo colpì alla testa. Luca cadde a terra, stordito. Prima di perdere i sensi, vide altre due figure emergere dall'ombra. Quando si svegliò, Luca si trovò legato a una sedia in una stanza vuota. La testa gli pulsava per il colpo ricevuto. Davanti a lui, tre uomini mascherati lo fissavano in silenzio. Uno di loro parlò. Detective Moretti, sei andato troppo oltre. La società non tollera intrusioni. Ora pagherai le conseguenze della tua curiosità. Luca capì di essere caduto in una trappola mortale. Doveva trovare un modo per fuggire. E in fretta. Due settimane prima, il detective Luca Moretti passeggiava per le strade affollate di Napoli, la sua città natale. Era una calda serata estiva e le vie del centro brulicavano di gente. Mentre camminava lungo via Toledo, Luca si fermò davanti a un bar per prendere un caffè. Si sedette a un tavolino all'aperto e ordinò un espresso. Mentre aspettava, notò due uomini al tavolo accanto che parlavano sottovoce. All'inizio non ci fece caso, ma poi una parola catturò la sua attenzione. Società. I due uomini sembravano discutere di qualcosa di segreto e importante. Luca si sforzò di ascoltare senza farsi notare. La società si sta espandendo, disse uno degli uomini. Presto avremo membri in tutta Italia. L'altro rispose, sì, ma dobbiamo stare attenti. Ci sono ex membri che potrebbero parlare. Luca sentì il cuore accelerare. Di che società stavano parlando? E perché sembrava così segreta e pericolosa? Decise di rimanere e ascoltare ancora un po'. I due uomini continuarono a parlare per alcuni minuti, menzionando nomi di città e persone che Luca annotò mentalmente. Quando finalmente se ne andarono? Il detective sapeva di aver scoperto qualcosa di grosso. Quella conversazione casuale segnò l'inizio della sua pericolosa indagine attraverso l'Italia. Dopo aver ascoltato la misteriosa conversazione a Napoli, Luca Moretti decise di iniziare la sua indagine sulla società segreta. Il detective compilò una lista di ex membri che potevano fornirgli informazioni utili. La prima tappa del suo viaggio fu Firenze. Qui, Luca incontrò Maria Bianchi, una ex membra che aveva lasciato la società dieci anni prima. Maria parlò con cautela, visibilmente spaventata. Raccontò a Luca di rituali segreti e di come la società controllasse importanti settori dell'economia italiana. Da Firenze, Luca si spostò a Bologna. In questa città, incontrò Giovanni Rossi, un anziano professore universitario che era stato membro della società negli anni Ottanta. Giovanni fornì a Luca preziose informazioni sulla struttura gerarchica della società e sui suoi metodi di reclutamento. Il viaggio di Luca continuò verso Nord, a Venezia. Parlò con Elena Verdi, una giovane artista che era fuggita dalla società solo due anni prima. Elena tremava mentre raccontava a Luca delle minacce che aveva ricevuto dopo aver lasciato il gruppo. Le sue parole confermarono al detective quanto fosse pericolosa questa organizzazione. Luca si diresse poi a Torino. Qui, incontrò Marco Neri, un ex membro di alto rango che ora viveva nascosto. Marco rivelò a Luca dettagli scioccanti sui crimini commessi dalla società, inclusi casi di corruzione politica e manipolazione finanziaria. Ogni incontro, ogni storia, aggiungeva un pezzo al puzzle che Luca stava cercando di comporre. Il detective sentiva di essere sempre più vicino alla verità, ma allo stesso tempo si rendeva conto del pericolo crescente. La società segreta era potente e non avrebbe esitato a eliminare chiunque minacciasse di esporla. Nonostante i rischi, Luca era determinato a continuare la sua indagine. La prossima tappa sarebbe stata Roma, dove sperava di trovare le risposte decisive. Luca Moretti arrivò a Roma con grandi speranze. La città eterna nascondeva molti segreti, e il detective era sicuro che qui avrebbe trovato informazioni cruciali sulla società segreta. Il suo primo incontro fu con Francesca Ricci, una ex segretaria della società. Francesca incontrò Luca in un piccolo caffè vicino al Colosseo, con voce tremante. Gli raccontò di documenti segreti che aveva visto. Documenti che collegavano la società a importanti figure politiche. Il giorno seguente, Luca si recò in Vaticano. Qui, parlò con padre Antonio, un prete che una volta era stato membro della società. Padre Antonio rivelò a Luca che la società aveva radici antiche, risalenti addirittura al Rinascimento. Mentre camminava per le strade di Roma, Luca notò di essere seguito. Riuscì a seminare i suoi inseguitori, ma capì che la società era sulle sue tracce. Doveva fare attenzione. L'ultimo incontro a Roma fu con Vittorio Conti, un ex membro pentito che ora viveva sotto protezione. Vittorio fornì a Luca una lista di nomi e luoghi, incluso l'indirizzo di un importante membro attivo a Milano. Con queste nuove informazioni, Luca lasciò Roma. Sentiva di essere vicino alla verità, ma anche in grande pericolo. Decise di recarsi a Milano per incontrare l'ex membro Antonio Rossi. Ignaro che stava andando dritto verso una trappola. Legato alla sedia nell'appartamento milanese, Luca Moretti lottò per mantenere la calma. Mentre i suoi rapitori discutevano nella stanza accanto, il detective riuscì a liberare una mano dalle corde. Con movimenti lenti e silenziosi, Luca si slegò completamente, approfittando di un momento di distrazione dei suoi carcerieri. Si lanciò verso la finestra e saltò sul balcone sottostante. Il detective corse per le strade di Milano, inseguito dagli uomini mascherati. Grazie alla sua conoscenza della città, Luca riuscì a seminarli nei vicoli del centro storico. Trovato un nascondiglio sicuro, Luca esaminò tutte le informazioni raccolte durante il suo viaggio. Improvvisamente, tutto sembrò collegarsi. I nomi, i luoghi, le date, formavano un quadro chiaro della struttura e delle attività della società segreta. Luca capì che la società aveva infiltrati in ogni livello del governo e dell'economia italiana. Il loro obiettivo era il controllo totale del paese attraverso la corruzione e il ricatto. Con questa rivelazione, Il detective sapeva di dover agire in fretta. La società era potente. Ma ora lui conosceva i loro segreti. Era il momento di smascherarli una volta per tutte. Luca Moretti sapeva che doveva agire rapidamente. Contattò un giornalista fidato e gli fornì tutte le prove raccolte durante la sua indagine. Il giorno seguente, i principali giornali italiani pubblicarono in prima pagina alla notizia della società segreta. L'Italia intera fu scossa dalla rivelazione. La polizia, guidata dalle informazioni di Luca, effettuò arresti in tutto il paese. Politici corrotti, imprenditori disonesti e criminali di alto rango furono catturati uno dopo l'altro. Luca partecipò personalmente all'arresto del capo della società. Un potente banchiere di Roma. L'uomo fu sorpreso nel suo ufficio mentre cercava di distruggere documenti compromettenti. Nei giorni seguenti, ex membri della società uscirono allo scoperto, fornendo ulteriori prove e testimonianze. La rete di corruzione e potere fu completamente smantellata. Luca Moretti divenne un eroe nazionale. Il suo coraggio e la sua determinazione avevano portato alla luce una delle più grandi cospirazioni nella storia d'Italia. Il detective sapeva che il suo lavoro non era finito, ma per ora poteva godersi la vittoria. La giustizia aveva trionfato.